lettera d'auguri a un carcerato con queste righe scritte col cuore una donna spera nel più presto ritorno di un perduto amore perdonami o mio tesoro se non posso dividere con te le tue pene sappi che per me pena assai grande saperti colà dove amore non c'è che le mie righe ti portino speranza in quest'anno che nasce come per me son le tue in un anno che muore